Siamo con Michele Cuccitto, neosegretario dei giovani democratici della provincia di Foggia. Da pochi giorni hai preso un incarico molto importante per l'intera comunità della provincia. Sicuramente un incarico importante per tutta la provincia, in particolare per i giovani democratici di Capitanata che comunque sono di fatto una costola del Partito Democratico. È un incarico importante, un incarico che prima di me è stato preseduto da Stefano Pastucci che voglio ringraziare per l'impegno che ci ha messo in questi quattro anni nella gestione della giovanile, tra l'altro quattro anni anche difficili in cui la prima sfida è stata quella del Covid e cercare comunque di mantenere la giovanile unita durante un periodo che abbiamo vissuto tutti e che è stato molto complesso. È chiaro che comunque le sfide che abbiamo oggi davanti sono ancora delle sfide importanti, sono delle sfide che ci vedono protagonisti sia in ambito locale che in ambito nazionale. Spero nel più breve tempo possibile che si arrivi anche comunque ad avere una segreteria nazionale e quindi anche un direttivo nazionale che possa dare alla giovanile quelle che sono le basi e soprattutto le strade da intraprendere durante i prossimi tre anni che ci vedranno sicuramente protagonisti a 360 gradi e le sfide sono fondamentalmente sfide che si rivolgono ai giovani in quanto comunque la giovanile deve rappresentare i giovani che si rivedono all'interno di quelli che sono degli ideali del Partito Democratico fondamentalmente. La strada che abbiamo intrapreso noi è una strada importante, è una strada sicuramente difficoltosa, è una strada che viene resa ancora di più difficoltosa da quelli che sono i tempi che viviamo perché noi comunque viviamo un tempo in cui la politica non viene più vissuta in primo luogo dei ragazzi o comunque la politica si è allontanata dei ragazzi e viceversa e di conseguenza l'obiettivo fondamentale sarà quello di ridare fiducia nei ragazzi alla politica perché pensiamo che sia l'unico modo per riuscire comunque a creare poi un gruppo dirigente futuro che possa realmente occuparsi di quelle che sono le problematiche del nostro territorio e anche della nostra nazione, dell'Italia e in senso più esteso dell'Unione Europea. Viviamo in un periodo particolare, in un periodo sicuramente dove i giovani devono fare la loro parte e non possono allontanarsi dalla vita pubblica ma devono essere parte integrante di essa. Come obiettivo fondamentale di questa segreteria provinciale sicuramente c'è appunto la rappresentanza giovanile, c'è dare, cercare in un certo senso di aumentare quelli che sono i numeri della giovanile provinciale che in questo momento sono numeri che ci vedono in difficoltà. Noi non abbiamo la metà delle tessere che avevamo 4 anni fa e sicuramente questo è un dato che deve essere migliorato e che deve essere cambiato sotto tutti i punti di vista. Inoltre dobbiamo puntare ad avere una rappresentanza più massiccia direttamente sui territori ovvero nelle sezioni dove siamo protagonisti con il Partito Democratico ma dove manca anche la sezione dei giovani democratici, anche in comuni territorialmente parlando grandi tipo Sansevero, Lucera e altri sparsi in giro per la provincia. Quindi gli obiettivi sono questi chiaramente anche con degli obiettivi programmatici per riuscire ad arrivare a quelle che sono le nostre prospettive politiche.